10.000 mi piace ragazzi e fatemi sapere qui sotto un nome e una cosa della città con la lettera c Uuuu ragazzi sono Erilaz bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui tornati con il nome cose città versione online perché ragazzi purtroppo non possiamo muoverci Assieme a 5 sessi degli elites Ciao ragazzi Ciao Ecco lì come vedete c'è Om, c'è Fuse, c'è Mister, c'è Tati, manca Mirko Però ragazzi oggi ci daremo battaglia appunto in questo gioco Detto questo ragazzi le regole le sapete direi che possiamo partire Sì assolutamente Allora le categorie come vedete sono youtuber nome, città, animale, professione, squadre, colore, cibo e canzone Eeeh ho cronato Va bene Andrei, non mi capisco il tempo In 10 secondi Ok partito il gioco ragazzi 4, 3, 2, 1, let's go Letta, zeta Eeeh va bene Madonna Ok professioni State per l'animale già sai Non metto quello Andre No la zeta No Colore con la zeta raga Oddio veramente Non mi scrive perché lo scrive oh Godo quanto godo te lo giuro godò troppo Abba io ho scritto una cosa raga non so se vale Ovviamente non si bara niente di cerchi di google che qua No Finito Eh si ha finito Eh si confermo io raga Allora youtuber zanzo zv jackson zano zv jackson zano Ma chi è zanzo? Eh come facciamo però? Zanzo zacco lo faceva minecraft ai tempi di tanto Eh vabbè dai Vero tanti C'è 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 E vai Vabbè fai che per chi fa 3 r è 0 Chi fa 2 è 5 E chi ne fa 1 Eh però mi sei capito di calcolare il sito Se non va bene togliete voi Cioè nel senso di mettere la x Più stodiamo la v Mr zonzo Non ho mai sentito un nome zonzo Mister Ha ci ha provato Zaccari esiste? Zaccari esiste Tanti ha preso Ha fatto l'unico giusto Città zante No città zanzibar No zanzibar è nello stato Ma come no? Eh non stato lo zanzibar Zaccinto zante zagabria Bravo piùsgamer Grazie Animale Zanzibar 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 Vabbè Wow Professioni Cos'è lo zebedino? Dai Eri Cosa è lo zebedino? Eh non lo so Vabbè me la metto x Zappatore 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 ok ci sta Zodiacalciatore Andrano va bene Zuofilo Cos'è? Vabbè uno che ama gli animali Un po' troppo però Eh beh sì Lo fate mai stile Squadre zurigo godo Zurigo zimbabwe La cerchiamo vabbè cerchiamo le nazioni Zimbabwe Zunico Colore zae Ah zinco Colore zinco Colore zinco Eh che era zinco Zinco è Colore zinco Esiste colore zinco Ma mica conoscete Raga me la cerchete Si color merda tati C'è uguale Ma perché scusa? Ma lo zinco non è il colore C'è è un materiale È come oro È colore È colore zinco infatti Si può dire Vabbè lasciamo lasciamo Io ho messo zaio In dialetto veneto Eh sì dai Cibo, zenzero, zucca, zucchero, zampone di maiale Cos'è lo zampone di maiale? Lo zampone Ah la zampa grande Ok Zeppola Ok ci sta Canzone Zitto Zingara felice Cos'è? Come cos'è? Cerca su questo youtube Oh esiste Vabbè ci credo Zazza Cos'è? Zitto Oh zazza è la canzone Davvero Zazza è la canzone Zorro Zorro è un cartone Vabbè ma c'è la canzone di zoro Ok 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 Fatto Conferma i risultati Vediamo cosa mi dà È ripartito 3, 2, 1 Colla P U Ah sicuro mettete quella Minchia lo youtuber La mia Come lo youtuber non ti viene? Confessioni Oddio la canzone Madonna l'animale raga Fattissi Stop No 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 Pantellas non è Pantellas Sei I Pantellas No dai raga Sì sì È vero Raga I Pantellas Vabbè dovete mettere voi la X Io lo lascio confermato scusa No 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 È il momento Perfetto Adesso li ha eliminati Prima non ne vedi No infatti Vogliono 3 ce ne vogliono Quindi tutti raga dobbiamo mettere Tutti dobbiamo confermare o meno Sì sì Peppo Va bene tati Mister togli Palaz Non è più un youtuber eh dai no no ci sta dai ci sta ci sta no e secondo me lo tolgo poi vi ho detto voi ok vabbè a voi nome pamela pippo pino pietro peppe animale pipistrello pollo pappagallo pipistrello om via poliziotto professore portiere papa pastore ci sta a squadre polinesia ma papa professione ma che cazzo è una professione è una professione il papa e dove fai il papa avevo un levo sul colore cibo pizza pane pesca patata canzone parlami di te piglio ti levo più schede per me o di giovanotti adesso cos'è pondere play home o rianna cerca ma perchè l'hai cercata per questo ma cosa mi ricordavo io ho tolto e io ho confermato e io ho tolto e io ho tolto e io ho tolto fermato anch'io o sta iniziando prossimo round ragazzi siamo al terzo round rai di x ray grazie no no è x ronna allora no è just ronna no 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 l'ha tolto si chiama solo ronna adesso ok quindi ronna vai dati è giusto professioni è quello che fa omar grazie andrea il come si chiama era grande bravo ok ragazzi ho fatto vai mister depennato riccardo roberto ronald bel nome riccardo città rieti ragusa roma roma ravenna animale rana rondine rana rinunceronte rospo ci sta professioni ragioniere 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 rosticere rapinatore vabbè scusa si guadagna da vivere io io lo lascio perchè rapinatore ci sta squadre roma regina roma res roma rieti ricca senere strom Be colore e rosso 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 cibo rame r via raviolo che ha il rucola ma da qualche ragione rock star cosa resta non, non, non riuscita a scala resta con me perfetto io ci sto confermo e quindi resta come dovete tolghi una ragagna e si anche è er quindi è anche me ma levatelo adesso come hai detto l'X R di cibo guardate il mio cibo guardate il mio cibo guardate il cibo di andrea Io l'ho messo, io l'ho messo Raga, dovete stare attenti, prossimo round Con la G Si può dire il gondolao? No, dati Si può dire Eh no, non si scrive così Cioè non si dice così, però è quello Dai, non vale Si può mettere canzone con la proposta Si La canzone con la G Potify, un attimo Eh, si, dai No, ma che non sono No No Non fatto, raga Youtuber Giuse360 Gigi Gunther Gabbo D Lo levo Gabbo D.S.Q. No, ma non si fa Gabbo il nome Per me, anche Gunther è sbagliato Perché sono i footwork Lo levo anche, anche Gunther lo levo No, Gunther va bene, guardi, ero youtuber Va bene No, non è il nome del canale Va bene, ma no youtuber Tu metti youtuber Andrei che te lo faccio, guardi Non è il canale di youtuber Vabbè, c'è ragione Giuseppe, Gianluca, Gabriele, Gesualdo, Giulia Ok Città, Ginevra, Gena, Genova, Gorgonzola Ma esiste, esiste come città, circala Dov'è? Esiste come città, circala Ma esiste come città, circala No, c'è, c'è Che esiste come città È vero, è vero Sì, sì, sì Vuoi che si dico come città Ah, è in Lombardia Gallipoli, ok Animale, Gatto, Gallo Galeazzo Cos'è Galeazzo? Ah, che Galeazzo? No, non va bene Dai Era youtuber, Galeazzo Giraffa, Gallo Professioni, gondoliere 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 Grigioniere Che è? Gondoliere È uno che è pitta di grigione così No, è vero Ma foces Non esiste, via E poi c'è Giullare Che è al lavoro di Tati Poi Squadre Ginevra, Galles Genova, Genova, Genova Genova Giallo, 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 giallo Cibo Gallette, gallette Gatto Cos'è il gatto? Non vale Non vale, non è copiato Che sbolo, sto qua ha sempre i termini Andrei, hai capito come? A scuola sulla mensa, in mensa Io tolgo Io tolgo qua, tu Oh, raga, dovete mettere Dai, giuggiola La giuggiola No, è giusto Oh, ma la giuggiola Ma che è la face? Canzone G No, la giuggiola è quella che c'è sugli alberi Da piccoli Oh, dovete leggere, raga Leggi, dovete mettere le X Mister No Goduria No Goduria G, stai o canzone? Cos'è? La canzone ha fatto Massimo Ranieri Anto, quanto? Ti prego, Anto Eh, vabbè, ma non stiamo a sì Vabbè, ma non stiamo a sì Vabbè, ma non stiamo a sì Manca solo una X a più Sgamer, raga, se volete Andrei, io non te la metto Ma che è Giulia E' quella fa Giulia 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 Quindi ragazzi, confermiamo Prossimo round Come si sta vincendo In tutto questo Non lo so Che cazzo è quella E' borgh Che ne metto Cibo E' colore Il Ma che cazzo Non esistono colori Con la e Squadre Ok, professioni Mi schiamo quella che Saggivini Ma il sommelier Stop No, no Andrei, no No, non ci ho pensato Con YouTube Dai, Tati Ma non è scritto Manco E' rilazza No Per fu cagare Eliminato E' non mi veniva in mente Per fai In esector In esector Ok E' non mi veniva in mente Guarda Ernesto Estero Ok Città Empoli Egitto Egitto Non è una città Egitto Ah, sì Egitto Empoli 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 E' non mi ha 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 Il palettiero va bene Entropologo E' non basta Ma prese Si che esiste Toglianto Toglianto Il palettiere Squadre Entella Enna Cos'è l'Enna? Da ti Che cazzo è E' la squadra Che cazzo è la squadra Dai E' una calcio Da sicilio Come non esiste E' una calcio No io mi dissocio Oh Ha ragione Insultatelo Ma che è E' una calcio Insultatelo Solo lui ha lasciato Colore Er nero Sbagliato Eletticoloso Sbagliato Om E' sbagliato Cibo Escargot E' giusto Escargot Eucalipto Minchia Om Leva Canzone Emanuele Canta Cela un po' Andrea Emanuele Emanuele E dai Si Ma io la lascio Solo per la canzone Andre Mi piace C'è una canzone Di Giovelier Che si chiama Emanuele Si L'album Abbiamo capito La prossima volta Abbiamo avuto Un nome a caso Per una canzone Che uscirà Risultati Ok vediamo Mister Om Io terzo Tati quarto E più squinto Perfetto ragazzi Vabbè Andre di Classifica Quindi ragazzi Questo video Io spero Vi sia piaciuto La comanda Ragazzi 10 Mi piace Vedere altri Indovina Chi O comunque Giochi di questo tipo Ovviamente Fatti da casa In questo periodo Ringrazio Ragazzuoli Che mi mettono Verete I loro canali In descrizione Prego Quindi ragazzi Attimo Un'altra Scatica Se non ve lo ha fatto Qui da letto Tutto